Grazie a Gesù Cristo, la preghiera ci spalanca alla Trinità, al Padre, al Figlio e allo Spirito, al mare immenso di Dio che amore. E Gesù, ad averci aperto il cielo e proiettati nella relazione con Dio, è stato Lui a fare questo. Ci ha aperto questo rapporto con Dio Trino, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E ciò che afferma l'Apostolo Giovanni a conclusione del prologo del suo Evangelo, Dio, nessuno mai lo ha visto. Il Figlio Unigenito, che è Dio, è nel seno del Padre, è Lui chi lo ha rivelato. Gesù ci ha rivelato l'identità, quest'identità di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Noi immaginiamo a fattica e molto da lontano l'amore di cui la Trinità Santissima è gravida, e il quale abisso di benevolenza reciproca intercorrata Padre, Figlio e Spirito Santo. Soprattutto era lungi da noi credere che questo amore divino si sarebbe dilatato approdando sulla nostra sponda umana. Noi siamo il termine di un amore che non trova eguali sulla Terra. Davvero non potevamo sperare vocazione più alta. La umanità di Gesù, Dio fatto vicino in Gesù, ha reso disponibile per noi la vita stessa della Trinità. Aperto, ha spalancato questa porta del mistero dell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie a tutti.